Ciao Omar, grazie per il tuo tempo. Innanzitutto, come stai? Dove sei? Raccontaci un po' di te, insomma. Ciao, grazie a voi per darmi l'opportunità di parlare di questa esperienza. Attualmente mi trovo a New York. Dopo l'esperienza che ho avuto in Florida al college mi sono spostato a New York perché ho trovato lavoro qui in Ferrero e quindi vivo a New York e sto attualmente lavorando qui e quindi per i prossimi tre anni, diciamo, perché ho preso un visto lavorativo negli Stati Uniti, sarò qua. Nessuno mi sposterà da qua, diciamo. Quindi tu in Florida hai fatto l'università? Sì, ho fatto, no, ho fatto il master. Mi sono laureato a Udine, l'università in Italia, ho studiato economia e dopo, colpito comunque dall'esperienza che ha avuto una mia compagna di tennis, che aveva fatto l'università in America, ho contattato voi perché ero stato molto colpito dalla sua esperienza e volevo anche io fare un master negli Stati Uniti, era uno dei miei obiettivi, ma anche non volevo lasciare il tennis e quindi ho cercato di collegare le due cose per poter sia studiare che giocare. Ok, e dove sei stato? In Florida? Sono stato alla South Eastern University, che è a Lakeland, una cittadina tra Tampa e Orlando, quindi centro Florida, circa, diciamo, due ore e mezza, tre ore da Miami. Ok, e lì giocavi anche a tennis con la squadra? Sì, sì, studiavo e giocavo a tennis, eravamo nella divisione NIA, N-A-I-A, e facevo parte della squadra, quindi abbiamo, sì, giocavo, giocavamo spesso, diciamo, era stata una bellissima esperienza, molto impegnativa. Ok, beh, adesso parleremo un po' di tutto e volevo innanzitutto chiederti quale fosse la tua motivazione, insomma, per andare lì in America e intraprendere questo percorso. Beh, innanzitutto, come ho detto prima, è stata, ero stato molto colpito dall'esperienza di questa ragazza che conoscevo e la mia motivazione era quella che volevo fare un master all'estero per migliorare il mio inglese, per comunque anche aprirmi a più opportunità e poi volevo continuare comunque a giocare a tennis, perché ero in Italia, avevo un buon livello, non volevo lasciare perché ero negli anni in cui stavo giocando bene, mi sentivo bene e quindi volevo cercare di fare le due cose anche per capire per me quale potesse essere la strada migliore. Penso che l'opportunità di andare, non volevo da un lato lasciare gli studi perché mi è appena laureato e mi piaceva studiare, volevo continuare anche a studiare, dall'altro lato non volevo lasciare il tennis e penso che questa sia stata, diciamo, la combo, la combinazione perfetta per me e quindi ho cercato qualcuno che mi potesse aiutare, in questo caso voi, per raggiungere questo mio obiettivo che era quello di andare a fare un master all'estero. Che livello avevi prima di andare in America, a livello tennistico intendo? Sì, allora io ero un 3-1 e ho giocato sia con l'Eurosport in Cora de Nonce dove mi allenavo sia in Serie A2 che in Serie B e questo era il mio livello, diciamo, ero nel picco della mia carriera tennistica. Ok, e diciamo le aspettative che avevi per comunque una divisione Naya, com'erano le tue aspettative? Ti aspettavi un livello così, ti aspettavi un livello più alto, più basso? No, no, il livello era buono, nonostante, beh, in America, diciamo, ci sono, come ben sapete, diverse divisioni, c'è la NCA che ha division 1, 2 e 3 e poi c'è la Naya, comunque la Naya io la reputo una buona divisione perché può stare benissimo il mezzo tra la divisione 1 e 2, dipende sempre dalle aree dove giochi. Il livello era alto perché, ti faccio un esempio, noi, la nostra squadra, lasciando stare il primo anno che, sfortunatamente, è stato sospeso per il Covid, però nel secondo anno siamo stati, abbiamo raggiunto il miglior risultato dell'università in termini di tennis e siamo stati top 15 per la prima volta, ci siamo qualificati ai Nationals e quindi, cioè, il livello era buono, cioè, giocatori buoni da tutto il mondo, avevamo una squadra molto multietnica e diciamo che il livello era alto e le competizioni anche delle altre squadre era molto alto, quindi diciamo che me lo aspettavo così, ma anche quando sono arrivato qui è stato veramente bello. Ok. Hai fatto difficoltà un po' a ambientarti? Perché comunque, insomma, è un bel cambiamento da la situazione che avevo in Italia. Sì, diciamo, per come sono fatto io no, perché io sono una persona che si adatta facilmente a diversi ambienti, però ovviamente è tanto molto diverso rispetto all'Italia, perché l'Italia ha diverse, diciamo, la vita è completamente diversa e anche a questioni di distanza è tutto molto più vicino, qua in America invece la questione è un po' più difficile, poi comunque essere a dieci ore di volo lontano dalla famiglia con un fuso orario di sei ore di differenza non era facile, però devo dire che sia voi che comunque anche la scuola e il coach sono sempre stati molto disponibili nel farti sentire a casa e quindi penso che sia parte del processo e anche loro sono molto disponibili nel farti sentire bene, quindi diciamo che ambientarsi non è stato così difficile. Ok, quindi c'è sempre stato un supporto sia dalla squadra che dal coach che anche dagli insegnanti, perché insomma la scuola è abbastanza impegnativa. Certo, certo, certo. C'è tanto da studiare, c'è tanto da giocare, da allenarsi, c'è un continuo supporto perché nel senso vogliono che tu comunque raggiungi i tuoi obiettivi, non ti vogliono lasciare lì da solo, sanno quanto è difficile per una persona lasciare il proprio paese, lasciare la propria casa per spostarsi in un altro paese da solo, quindi dover fare tutto da solo e quindi loro sanno, se hai bisogno, ci sono. Magari raccontaci una tua giornata tipo, così tutti un po' si rendono conto insomma. Allora, le giornate erano molto lunghe e intense, però anche molto piacevoli, perché ci si svegliava di solito presto, perché avevamo diciamo palestra al mattino, prima che iniziassero i corsi delle lezioni che dovevi attendere, quindi intorno alle sette si andava in palestra, si faceva un allenamento di gruppo in palestra, poi ognuno andava nelle proprie classi per svolgere le proprie lezioni e poi tutti i giorni allenamento dei tennis dalle due alle quattro del pomeriggio. Da lunedì al venerdì, quindi finito allenamento, dopo si fa un po' di stretching, si parla con i compagni, poi si torna magari a studiare se avevi i compiti da fare per il giorno dopo e questa era la giornata, quindi sveglia presto, andare a scuola, palestra, studiare. Era una bella giornata intensa, però comunque sempre con i compagni, sempre con gente all'interno della scuola, quindi non ti sentivi mai da solo, diciamo, era molto molto piacevole. Ok, quindi anche se avevi le giornate così piene, riuscivi comunque a stare con i tuoi compagni, fare amicizie, socializzare con altri? Certo, certo, e poi devo dire una cosa che mi ha molto colpito dell'America è che le persone sono molto molto amichevoli, è molto facile, sono molto più aperte, ho notato, rispetto all'Italia, è molto più facile creare amicizie, ascoltano le tue esperienze, quindi questo è un fattore positivo che ti fa sentire parte del gruppo e del progetto. Quindi diciamo che era tutto un po' impegnativo, tutto molto concentrato, perché comunque dovete dare il massimo sia in campo che a scuola, però insomma mi sembra aver capito che l'atmosfera e l'ambiente era ottimale insomma per fare queste due cose insieme. Io penso che è difficile perché comunque ti devi impegnare molto sia a livello accademico che a livello sportivo, però se hai un ambiente all'interno, attorno a te, che ti permette di fare queste cose in serenità, penso che questo venga molto più facile. e devo dire che la mia scuola personalmente è stata molto attiva in questo, supportava molto questi fattori e quindi per me è stato diciamo sì difficile perché comunque è un impegno, però dallo stesso lato le giornate passavano velocemente e ti divertivi, imparavi tanto e quindi erano molto piacevoli. E dici che ci senti tu in questo momento migliorato sia a livello tennistico che a livello scolastico che a livello diciamo umano o insomma senti questo miglioramento che si è avvenuto? Sì, 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 è un'esperienza che secondo me ti cambia la vita in tutti i sensi, cioè comunque dover fare tutto da solo perché sei qua, doverti organizzare, già solo il fatto di doverti organizzare è una cosa che ti cambia, ovviamente migliori a livello tennisticamente perché comunque ti alleni tutti i giorni con compagni di squadra che sono da diverse parti del mondo e quindi hanno diversi modi di giocare, diverse modalità di apprendimento, diverse modalità di insegnamento, di allenamento, quindi impari da loro. Poi a livello scolastico assolutamente perché comunque venendo dall'Italia è tutto un altro metodo di studio, ma è molto più pratico, mentre in Italia è molto più teorico, quindi impari diversi metodi di studio e a livello umano anche perché comunque, come ho detto prima, devi fare tutto da solo, devi saperti relazionare con diverse persone, di diverse culture, di diverse nazionalità e quindi questo ti migliora, ti migliora tantissimo, ti apre molto di più e ti permette di stare con qualsiasi persona nel mondo, che questo è fantastico diciamo. Quindi sei contento della scelta che hai fatto insomma? Molto, molto, cioè all'inizio mi ricordo prima di partire ero molto preoccupato, ero lì che dicevo cavolo speriamo che vada tutto bene perché sai, lasciare casa, lasciare gli amici, lasciare la famiglia per iniziare diciamo da capo era un po' preoccupante, però ad oggi mi sarei pentito se non avessi fatto questa scelta. Era la tua prima esperienza? Così lontano da casa, magari da solo in un paese dove non c'è la tua lingua madre? Sì, avevo viaggiato diciamo in Europa per il tennis, per giocare qualche torneo, così, però era la prima esperienza oltreoceano, prima esperienza negli Stati Uniti da solo e quindi sì, è stata la prima e bellissima esperienza. Dai, bene, mi fa piacere. Ascolta, con te volevo parlare di una cosa perché io so che tu hai avuto una grande opportunità lavorativa. Sì. Ti volevo chiedere un po' se ci puoi raccontare di questa tua esperienza. Sì, allora, diciamo che adesso lavoro in Ferrero ma tutto è nato perché una volta laureato dal master una cosa molto interessante che comunque le università americane offrono è la possibilità che dopo che ti lauri dipende dal programma che studi però ti offrono l'opportunità di fare l'application per questo OPT si chiama che è l'opportunità di lavorare, di stare negli Stati Uniti per altri 12 mesi oppure anche tre anni dipende dai programmi che studi per lavorare e quindi questo diciamo che è una grande opportunità perché comunque non è facile prendere dei visti lavorativi negli Stati Uniti e una volta finito il visto da studente sono due le opzioni o torni a casa o fai questo tipo di attività, questo tipo di, diciamo, di visto. Sì. E quindi sì, la scuola mi ha offerto l'opportunità di stare 12 mesi per lavorare e diciamo un po' la fortuna, un po' la bravura mia sono riuscito a entrare in Ferrero quindi mi ricordo che avevo fatto queste, l'intervista con i colloqui con la Ferrero poi mi hanno fatto un'offerta di lavoro, ho accettato e dalla Florida mi sono spostato a New York siccome hanno gli uffici qui. Ma questo contatto te l'ha trovato la scuola o la Ferrero che ti ha contattato? No, il contatto l'ho trovato io tramite LinkedIn sì, avevo mandato delle applicazioni e poi tramite LinkedIn sono riuscito a mettermi in contatto con il direttore dell'HR e sono riuscito a prendere una, a organizzare una intervista in cui dopo ho iniziato tutto il processo dei colloqui per, diciamo, per il lavoro per il lavoro, sì Però diciamo che questa è la tua opportunità ti è arrivata grazie al tuo rendimento scolastico? Sì, diciamo che questa opportunità mi è arrivata grazie al rendimento scolastico ma anche grazie, diciamo, al fatto che avevo avuto, diciamo, sia una laurea in Italia che è una laurea magari negli Stati Uniti avevo un'esperienza internazionale conoscevo tutte e due le lingue, l'italiano e l'inglese e quindi, diciamo, è stato una diversi fattori che insieme, si sono combinati insieme mi hanno dato l'opportunità di proseguire la mia esperienza negli Stati Uniti e in un'azienda italiana all'estero che penso che sia una cosa fantastica rappresentare anche l'Italia all'estero Quindi tu adesso sei a New York? Adesso sì, sono a New York perché gli uffici della Ferrero la Ferrero Nord America, diciamo, l'headquarter è qui a New York più specificamente gli uffici sono in New Jersey ma è al confine tra New York e New Jersey ed è, sì, è fantastico siamo, diciamo che la Ferrero Nord America ha compreso quasi 5.000 dipendenti quindi, cioè, è molto grande sta investendo tanto nel Nord America quindi sta facendo anche diverse acquisizioni per rispondere ai propri brand quindi diciamo che qua la Ferrero sta diventando un'azienda veramente veramente solida anche nel mercato americano e di cosa ti occupi nell'azienda? Allora, io faccio l'HR planning coordinator quindi mi occupo di faccio praticamente, in poche parole la pianificazione di headcount, di teste il controllo di costi il controllo degli overheads per quanto riguarda la funzione dell'HR Faccio, complimenti Grazie Te l'aspettavi o, insomma immagino che non ti aspettavi, insomma di ricevere una richiesta così dalla Ferrero in così poco tempo, insomma a cambiare la tua vita? No, no, non me l'aspettavo ma penso che questo sia dovuto soprattutto dal fatto di essere venuto negli Stati Uniti quindi volevo anche ringraziare voi perché senza il vostro aiuto probabilmente non penso che sarei sarei qui e dove mi trovo adesso perché se non fossi mai venuto qui a fare un master negli Stati Uniti avere l'opportunità una volta laureato di prendere questo OPT per poter estendere la mia permanenza qui e cercare un lavoro chissà dove sarei adesso non lo so quindi diciamo che non me lo sarei mai aspettato se guardo a tre anni fa dove ero E adesso allora ti è nato il visto lavorativo per tre anni Sì, allora una volta che è scaduto l'OPT la Ferrero mi ha fatto l'applicazione per un altro tipo di visto lavorativo che in questo caso si chiama H1B che siamo riusciti a prendere quindi adesso per tre anni io sono a posto fino al 2025 io sono a posto per lavorare qui negli Stati Uniti E poi si vedrà insomma, no? Poi si vedrà, diciamo il futuro non si può prevedere guardiamo step by step però diciamo che da qui a tre anni tante cose possono succedere intanto guardo questi tre anni qua che comunque è un lungo periodo e c'è tanto da fare, da imparare Beh, sicuramente è una grande opportunità da accogliere che sicuramente rimarrà nel curriculum e chissà poi nei prossimi tre anni cosa può succedere magari si aprono altre porte insomma Bene, volevo parlare ancora magari del nostro servizio ok? Hai già un po' accennato ti volevo chiedere un po' come ti sei trovato con noi se sei stato soddisfatto il nostro servizio se ci puoi un po' raccontare di questo percorso che hai fatto con noi Certo, beh il servizio secondo me è stato ottimo e lo consiglio lo consiglio vivamente a tutti perché comunque voi mi avete seguito dall'inizio alla fine sono sempre sono sempre stato in contatto con tuo fratello con David che è stato sempre disponibile non solo prima che arrivassi negli Stati Uniti ma anche durante comunque devo dire che senza un'agenzia come voi senza di voi forse non lo so se ce l'avrei fatta da solo ad andare negli Stati Uniti perché comunque non è facile trovare una scuola non è facile trovare una scholarship una borsa di studio non è facile comunque voi mi avete aiutato sia con questo che anche con tutte le documentazioni da fare tutte le carte i documenti da fare l'intervista in ambasciata tanti altri tipi di documenti che comunque se uno ci pensa sono veramente tante tante cose perché il processo è lungo non è facile comunque ricevere una scholarship ricevere un visto per andare negli Stati Uniti quindi secondo me il servizio che offrite voi è ottimo e c'è da dire che anche non è da sottovalutare perché comunque è un servizio che richiede tempo ed energia chiaro sì sono tante cose di cui bisogna tenere presente prima di andare in America tanti step che bisogna intraprendere ed è un processo abbastanza lungo e bisogna avere tanta pazienza quindi insomma da soli non è facile non è assolutamente facile insomma affidarsi ad un'agenzia secondo me che anche io ho intrapreso questo percorso e secondo insomma cioè per questo noi facciamo questo servizio è la cosa migliore affidarsi ad un'agenzia del genere magari hai un consiglio da dare a qualcuno che vuole intraprendere questo percorso sì beh io io consiglio vivamente a tutti quelli indipendentemente diciamo dal livello tennistico siccome qua stiamo parlando di ricevere borsi di studio per il tennis però siccome come ben sapete anche voi come potete sicuramente dopo un domani in base al livello diciamo di una persona che voglia andare negli Stati Uniti a studiare e provare a ricevere una borsa di studio indipendentemente dal livello tennistico che ci sono diverse divisioni e quindi in base al livello si può trovare un'opportunità è un'esperienza secondo me da fare perché ti aiuta a crescere ti aiuta a conoscere gente nuova ad aprirti ti può creare diverse opportunità puoi imparare una lingua secondo me è un'esperienza nel complesso che ti matura e ti rende una persona migliore è importante anche capire che insomma non devi avere un livello altissimo per andare in America magari la gente pensa che in America il livello sia alto alto che però è vero se scegli delle università di un certo livello perché ovviamente noi vediamo solo quello che ci vogliono far vedere quindi se tu guardi su Instagram magari vedi solo le università migliori ci sono anche realtà in cui magari come te che insomma avevi una classifica di 3-1 e può giocare benissimo in una squadra fare il suo percorso ma avere ovviamente anche un livello accademico magari anche più alto più maggiore e poi avere delle opportunità lavorative che insomma ti cambiano la vita certo assolutamente assolutamente non bisogna farsi solo prendere dal livello un attimo del tennis che uno ha perché comunque come abbiamo detto ci sono diverse divisioni si può trovare una squadra una squadra che ti possa accogliere e soprattutto magari più il livello è alto magari la scholarship è maggiore però questo non vuol dire che non puoi ricevere comunque una scholarship per aiutare a intraprendere un percorso di studio quindi la consigliamo a tutti io sì la consiglierei è un'esperienza incredibile ed è da fare è da fare se siete delle persone diciamo con ambizioni e che volete intraprendere i vostri studi all'estero per imparare una lingua per continuare a giocare a tennis sia studiare che continuare a fare tennis a livello agonistico secondo me sì penso che questa sia la combinazione perfetta per fare le due cose bene dai Omar ti ringrazio soprattutto del tuo tempo di aver condiviso con noi questa tua esperienza speriamo che altri come te riescono a intraprendere questo percorso e magari arrivare anche loro alla Ferrero o un'altra azienda italiana a rappresentare diciamo l'Italia anche in America e nulla ti ringrazio e in bocca al lupo per il tuo futuro ancora e nulla grazie a voi grazie a voi sempre per la disponibilità che mi date e per l'esperienza che mi avete fatto vivere negli Stati Uniti buona giornata ciao grazie a tutti